Allora, questa davanti qua è la placenta, questa davanti, è la paleta anteriore, questo qui è il femore, andiamo a misurarci qui, della coscia. Questo è l'altro femore, questo qui, poi questo qua in mezzo alle cosce e il pisellino, poi ho in giro, vedete questo qua, questo qua anche se lì, no, adesso faccio le foto, sviluppo tutto, poi una volta fatto ci divertiamo, io lo giro, bene. Allora, poi, il cranio? No, no, aspetta, le gole troppo. Vedo il braccio a destra. È bravo, ecco, questo qua è, questa è la spalla, questo qua invece che andiamo a misurarci, che è una pennezzura importante, è l'omero, dunque il braccio. Poi, vediamo le vetture sulle vetture che mi interessano standard, questo qua è l'addome, vado ad abiturare il diametro trasverso dell'addome, che è questo qui. Poi, sempre l'addome, andiamo a fissarci l'immagine e andiamo a prenderci, come questo nostro, questo qua, allora, oltre al diametro, andiamo a prenderci anche la glisse, che è la circonferenza praticamente. Ok, andiamo a stapparcelo. Poi, altre vetture importanti, ovviamente, a questo punto è il cranio, che sta qua su, questo qua è il cranio, ne lo metto sempre anche qua, trasverso del cranio. Allora, sta cercando di sbirciare, però, non glielo posso girare, resto glielo giro su un secondo. No, no, non glielo posso girare, ci manchia le tante. Infatti, sta riprendendo tutto, va bene. Sì, sì, sì. Poi, anche qua, prendiamo le liste, anche questo, discorso uguale. Ecco qua, sentiamo un po', vediamo un'altra circonferenza cranica, un po'. Questa è la misura più importante, poi andiamo a vederci invece la parte morfologica. Allora, ovviamente, vediamo il cranio, allora, il cranio, ecco qua, con l'encefalo, i ventricoli del cranio, poi spossiamo qua, e vediamo... Le manine quelle sono? Uno e due, sì, uno e due, gli occhietti, eh. Le ho più guardate, sono questi qua. Sì, te la vedo anche le manine, ecco le qua. Vedi le mani, vedi le mani, una due, eh? Una e due, questo lo diamo a braccio, bravo, radio una e tutto buono, ok? Tu lo vedo così? Lo vedo benissimo. Poi, questo nero qua è lo stomaco, sempre nero, più in basso, se non è vuota, vediamo la vescica qua, qua, ecco la vescica qua, eh. Poi, poi vediamo altre cose importanti, abbiamo un po' di talentari per sversare, ecco qua, questo è il re di sinistro, questo qua, il re di destro, ecco qua, questa che mette la pancia, eh, poi questo qua invece è il cuore che parte con i due polmoni. Allora, andiamo, il cuore che sta a sinistra, polmone sinistro, polmone destro e il cuore che sta al centro, eh. Adesso lo vado a visto a battere, adesso andiamo a sentircelo anche un attimino, eh, al volo, vediamo un po' se che esce fuori, eh. E questo è il battito del bambino. Lo sente, signora, questo lo sente? No, mia. si 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 sposti qua e vediamo l'acrio in basso e poi i vetri con le strutture in quattro cammere poi questa qua è la conna vertebrale, vedi le coste, le coste, la conna vertebrale beh, meglio tardi che fai, no ma è complicato capirlo, insomma non è una cosa facile è abbastanza difficile, allora, vedete se riesco a, ecco qua, allungandolo, vedete, si vede la colonna, a parte la cervicale, il sacragno cervicale, poi il torsale e lombare fino al corcic, già vedete tutto quanto, tutta la colonna ecco, eccola qua, ovviamente vediamo benissimo anche le costole, vedono queste qua, un po' di albia doracica, questo nero ovviamente è tutto liquido amniotico, quando si rompa le acque è uscita fuori ovviamente, questo qua c'è un pisellino, i testicoli, il pisellino qua, ecco, 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 ecco qua il pisellino, guarda, eh, lo vedi è il pisellino gioviglio, è anche ben pronunciato, è anche ben pronunciato, è la prima volta che io lo vedo, lascio vedere un po' tutto qua, lo vedete?